Eeeeeee Bella a tutti ragazzi Io sono Minimatter E bentornati in questo nuovo video Oggi siamo in un video con ste Allora oggi Come penso di aver messo dal titolo Vi consiglieremo Due mappe In particolare la box fight e la build fight Però due mappe in particolare Molto buone Per poter fightare e allenarsi Allora la prima Ne abbiamo provate molto Però abbiamo trovato quella buona Allora la prima il codice è 7-6 Eeeh Questa qua Ve la faccio vedere da qua Ve la faccio vedere da qua Ve la lascio lì Lo stoppate col video E vabbè Ormai è troppo tardi Ste stiamo facendo il video Ah vabbè Lo facciamo Lo facciamo poi Cioè lo diremo poi Vieni dai Sì 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 Vabbè Io intanto Io intanto inizio ad entrare E vi avviso una cosa Per chi gioca da play Dovete cliccare Option Magari se siete nabi Vi faccio il tutorial Dovete cliccare Option Seleziona squadra Girate Andate in squadra 2 E poi cliccate applica Perché Bisogna scegliere la squadra Se magari siete in 4 Potete fare Che siete in più persone Ok Io sono in squadra 2 Ste tu stai in squadra 1 Ok O ste robe non Sì sì ovvio Quelle robe Dicevo non le toccate E niente E' fatta molto bene La mappa Ovviamente giocata Da tantissima gente E' una delle mappe migliori Per allenarsi Ve lo dico raga Le clicks Sono Good Vabbè Io proprio ti vedo laggare Raga Perché non mi edita Neanche a me Ok Questo lo confonderà molto Perché ero uscito No Oddio C'ho le scale storte Cosa Oh mio dio Oh mio dio Non mi bilda Non mi bilda Si è buggato Che balle Dai Perché mi si è detenuto Le cose robe Allora ste Non so che cazzo Stia succedendo Boh Raga Io Pris Non ballare Almeno Eh ma neanche C'è Proprio ballare C'è un po' Da bimba minchia Senza affese Eh Questo lo sapevo Di già Solo che Mi si è buggato E non mi editavo Le robe Non so perché A me A me invece Boh Io mi baggo Tutto E non mi editare Le robe Cosa Perché Perché A meno che Non mi face Scusa Ho sbagliato Ok Eh lo so Ma chi Non è più mazza È anche io Amore Dai Ehi GG GG Cosa? Ma hai fatto 200? Eh vabbè È la mia minchia GG Io non capisco perché Ti ho fatto 100 In quella parte E poi mi dice boh Beh io raga non lo so Mi rendo conto che comunque sia fortnite Mi rendo conto che comunque cado nell'aria Che fastidio Poi c'è neanche dire che trovo scuse Perché fare la figuraccia di merda Perché sto recando Quindi penso che si sia visto nella rec L'unica pecca di sta mappa Però che è anche buona È che vedete i maz Però così almeno vi abituate raga Meglio fare questa Oddio Scusa stavo per sbagliando Ecco ok Oddio No fra Allora L'ultima Chi Cioè Non è chi fa questo e vince tutto Perché tanto Tanto vincite Si sa È l'ultima Quindi devi avere tu il culo Comunque Comunque non capisco perché Cioè sono Ho vinto Ma io a quella distanza seriamente Ti ho fatto 100 In testa Poi ti ho anche Fatto danni di AR Quindi Sì Ciao Il fenomeno E non mi edita Cioè io ho editato E sei risultato all'edit Non mi edita Cosa Non edita Vabbè Vabbè Ciao No No Tu hai avuto fortuna Che non ti ho sparato Cosa Fra mi si sono aperti i balletti No per favore Lasciami curare Che cazzo Mi si sono aperti i balletti A caso Io non ho neanche sfiorato Le freccette E tu ti curi Anche Cioè bravo Che c'è un coraggio Eh fra Mi si sono aperti i balletti Ok Certo Ecco ovviamente Mi chiama qualcuno Metto giù Sì 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 è la nostra chat Stè Non mettere Cioè non mi voglio rispondere Cioè a me è da fastidio Che praticamente Io non ho neanche sfiorato Le freccette E mi si sono E mi si sono messi i balli Cioè i raghi Non ho niente di impostato Con le freccette A parte i balli e il ping E in quel momento Non mi serviva Ora Ora dobbiamo mettere La build fight Allora il codice è 8 4 5 2 Ecco E questa qua Ci ho già fatto un video E questa qua Come vedrete Stupenda La migliore raga Faremo qua invece 2-3 fight Così Dai vieni Io stavo comunque sclerando Prima Cioè io stavo sclerando Prima che hai capito Stavi Stavo sclerando Perché praticamente Sei visto in video Ma mi si sono aperti i balletti Ah giusto AR blu E Spas Spas viola Dove l'R Ok E scegli Regole delle build Right Sì secondo me Sei migliorato Dove vai 3 2 1 Via Ti dico che io Non so per niente Migliorato Magari Anzi io sono peggiorato Dall'ultima volta Che abbiamo giocato insieme Cioè settimana scorsa Tipo Ah lol Non puoi resettare Lo sai Ah ma io pensavo Che è ricaduto del tutto Ciao Perché Cioè scusami Siamo Che però Non ti ho dato Dai non vale far cadere Abbiamo detto L'ho detto anche Prima del video E' da bot Far cadere raga Perché Non sai fare la round Allora fai cadere Eh sì Grazie Così Se magari Miss una roba Ti faccio cadere Sti cacchi Ti devi fare i 90 Oh Aspetta Che voglio fare Una cosa che mi hai fatto Anche tu prima Così siamo pari Eh siamo pari Prima sì Basta chiamarmi Aiuto Ho smirato troppo Fra quanto Sto smirando Io Guarda che tu Sarebbe la seconda volta Che mi fai cadere Io ti ho fatto cadere Una volta Oh mio dio Mi hai preso Attraverso un muro GG Eh vabbè Devi recuperare Dai scendo un po' Per darti un po' Di Vedi che dici le bugie Sei un bugiardo Sei un bugiardo Dici è un caduto del tutto È un caduto del tutto Io vengo Hai preso lo scar Vabbè Non si è sentito Comunque No Eh lo so Eh ma È il giusto Delle build Fai te Ah si è curato Il nostro amico È giù Eh vabbè Spammerò Oh Ma che Allora Allora ti fai killare Un'altra volta Eh vabbè Ok Droppalo Ok Boh Eh io ti ho fatto 200 Vieni Nice Eh ma Un tempo Si poteva Ok Eh Bug Ah Oh mio dio Stavo cadendo Non mi si sono bloccate le build E mi si bug Eh mi sono bugato Ste Ti sei preso un casino Ah no GG Pensavo che ti eri preso tipo Mille Mille metri di high ground Però A quanto pare no È ancora lì raga Cosa Eh io Io sono bravo Diciamo un po' In tutte Io sono anche bravo A guidare Aggiungendo queste cose Sto un po' smirando oggi Ma perché Eh Un gioco da un po' C'ho giocato ieri Tipo mezz'ora Io non giocavo da 6-7 giorni Secondo me Non t'ho mai visto Fare 90 Perché tu vuoi fare Sempre le box È per questo che io ti dico Di fare Queste perché Tu non sai fare i 90 Praticamente Cioè Ora sì Però Non sapevi Fra Non mi va Sto cazzo di mirino Guarda Ah t'ho preso Palese Ma Cosa Quanto mi hai preso No Sì che posso Scusa Sennò Che cazzo c'ho Sì che posso Farmi gli scendini Fra Ci avevo 34 Di scudo Cosa Con Milwaukee Sì che c'è Sì che c'è Sì che c'è Eh, non ce l'ho Fratto, cioè proprio Se ti vuoi dal video era easy prenderti Se c'avevo una mira di merda se non ti prendevo Capito anche a me Basta Chi è che mi chiama? Bene, mi muto, sarà, intattieni Era ancora mia mamma Che palle però Cioè tutti mi dovranno rovinare il video nel mondo Che cazzo Cioè per forza Mi deve succedere qualcosa Cioè sempre mia mamma che mi chiama Era la quarta volta Abbiamo già fatto tre video No, due video prima di questo Perché mi continua a chiamare gente Cioè mia mamma mi chiama Io gli dico non mi chiamare E lei mi chiama 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 Che cazzo Che mi vengono invito di merda Ma perché non vieni? Ma provaci almeno dai Cioè adesso non voglio che il video dura 40 anni Dobbiamo fare ancora un fight Se neanche ci provi Cioè che cazzo siamo qua tre anni È bello che l'hai detto L'hai detto nel preciso momento Che anche io ho sbagliato una cosa Solo mi dà fastidio Quando mi succedono queste cose Che sono Sto lasciando un video tranquillissimo Mi chiamo Oh ancora Basta Basta Ma se tu era anche il rumore in ritardo Giustamente E fra Eri fermo E t'ho preso Cioè con una facilità sorta Eri fermo Guardati il video Eri fermo Così guarda Guarda eh Guarda eri così Tu eri così Non mi sparare Tu eri così Guarda Cioè proprio non ti Non ti sei mosso Dai E così Così sei figo Ecco ora Ecco ora Mi sono messo a laggare Un pochino Anch'io Oddio Meno male che io non mi sono incartato Raga Ho avuto una paura Di incartarmi Ma dove sei tu Ma dove sei tu Oh mio dio Che Ma sono così bravo Ah Sono io bravo E tu sei scarso Secondo me è un po' tutti e due Cioè Tu non sei scarso Però Secondo me io sono bravo E tu non sei Anche un po' di mira Editare Ma fra Cioè Eh ma fra me Buona mia Cioè Io se vuoi dopo Se vuoi Cioè Dopo ti mando pure la screen Cioè Secondo me Usare l'automira È da bimbi Cioè Di imparare A usare la mira Di tu Capito Questo è il mio concetto Fra io Buona Non ti vedo Ma sei andato giù giù Ah Giù Stavo avendo giù giù Ehi Non vale Ma dai Non vale No Ti ributi giù Perché io sono sceso apposta Mi Se ti prendo da qua Cazzo che mi raccio Esci dai No Non ti provo Ti vado lontano Vabbè Ci provo Ti voglio prendermi Questa è il mio scopo Non killarti Prenderti una volta Ho trovato un bug No no Sono caduto Dio Vabbè Non così tanto Diciamo Ore Oddio Come hai fatto a farmi 24 da quale distanza Scusa Amore Ma dove pensi di andare Con un high ground Pro Ok E giustamente Mi si blocca la play A caso Rando Ma dai Ma non va Go le splash Fra io ti giuro Che ho visto L'esplosione Delle splash Ma Ah ti sei cambiato Il colore Lol Sì Però dai Non capirà È tutto tuo Ecco non mi ha messo la scala Vaffanculo Fra è tutto tuo È tutto tuo Maledicium Io infatti ho detto Io spammo Cioè ho detto Chissene Io spammo È vero Cosa Non t'ho preso GG Vabbè Comunque Torniamo al centro Chiudiamo il video C'è Seste Eh no Ormai C'è Dobbiamo chiudere Anche il video Quindi ragazzi Io Qua Chiudo il video Ho fatto arrabbiare Stefano Perché Perché ho spammato In un round Vi saluto Ciao ciao